Buongiorno a tutti ragazzi, oggi è il 3 gennaio del 2021 e ho notato una cosa strambissima sull'estrazione del superanolotto relativo a fine anno e quella del 2 gennaio. Come potete notare al 31-12, pur non essendo stato fatto nessun 6 a quanto pare, il monte premi del concorso più il jackpot del concorso precedente e del monte premi totale era relativo a 84.041.985.97. Ora appare una cosa strana, il 2 gennaio, ora vado a cliccare qui 2 gennaio, estrazioni, andiamo a cliccare sul 2 gennaio del 2021, all'improvviso, ecco qua, sparito il jackpot e sparito il monte premi totale che non era stato a quanto pare vinto da nessuno. Quindi ritorna a 4 milioni. E gli 80 milioni che erano dell'estrazione precedente erano stati messi da parte, che fine hanno fatto? Non si sa. All'improvviso l'automatica ha pensato bene di cancellare il monte premi così ambito. Errore? Non si sa. Vedremo nei prossimi giorni quale sarà la motivazione o c'è stato un errore. Buona giornata.